Marsile è un'azienda che ha 48 anni e da 48 anni che difende con molto coraggio il Made in Italy. Io rappresento la terza generazione, un'azienda che da sempre ha solo personale femminile. Noi ci rivolgiamo ad una donna elegante, una donna chic che vogliamo vestire da mattina a sera all'insegna della qualità, facendo particolare attenzione anche a donne che hanno esigenze di vestibilità, quindi un'attenzione particolare ai materiali che anche per questa stagione estiva 2010 ha visto concentrarsi soprattutto sulla viscosa, una viscosa che abbiamo anche abbinato a dei lini, proprio per questo richiamo verso la tendenza di questo filato, così come pure ai cotoni mercerizzati, filati molto morbidi, molto nobili e che ci hanno permesso comunque di realizzare un total look concentrandoci soprattutto sulla simpatia che suscita sempre il contrasto del bianco e nero e indubbiamente anche del bianco e blu, però forse è una collezione che ha voluto dedicare uno spazio a quello che noi abbiamo soprannominato ironicamente burro e salvia, cioè una parte dedicata a questo bianco naturale, a un salvia militare e perché no anche a un bianco cacao.